Diamo spazio alle notizie che riguardano l'architettura qui a Darky News 24. Benvenuti, ben ritrovati. Andiamo ad Amsterdam per parlare di un progetto innovativo che riguarda la matita, il disegno dello studio Witteven Architects per ristrutturare la Canal House che ha inserito lo stile metropolitano in un ambiente storico del quale però sono stati conservati gli elementi caratteristici. La parete di mattone tipica dell'epoca industriale risulta in questo progetto inserito in spazi ampi che regalano una sensazionale emozione di libertà e movimento dove il bianco della pietra acrilica illumina lo spazio integrandosi con metalli, legni e vetro con un risultato davvero stupefacente. Come stupefacente è il risultato che è stato ricavato da questa discarica per rifiuti ora è diventato un polmone verde. Infatti parliamo del Wasit Natural Reserve che era in origine una discarica di rifiuti per la città di Sharia e oggi grazie al progetto dello studio X Architects l'area costituisce un nuovo polmone verde. Una bella notizia questa, sono state conservate le dune di sabbia costiere e le saline che sono visitabili grazie ad un nuovo centro visitatori. Il volume è interrato e coperto da un terrapieno con arbusti su un lato mentre invece sull'altro lato, il lato opposto, si apre verso l'ambiente naturale grazie ad una lunga galleria vetrata. La data è il 2017, questo è il momento in cui verrà completato il progetto che riguarda la nuova stazione ferroviaria di Astana, la capitale del Kazakistan che è stato firmato dallo studio Turco Taban Logu Architects che appunto è stato situato in un'area di 110.000 metri quadrati circondato da un parco e caratterizzato da una copertura portante a sbalzo formata da tre lastre ondulate d'acciaio che si innalzano al centro della struttura articolata su più livelli, sottolineando quindi il profilo che riprende quello dei binari ma che d'altra parte protegge l'area all'aperto. Prima di lasciare spazio ai nostri servizi c'è ancora una notizia da darvi che ci porta a Parigi dove si può in qualche modo notare un nuovo landmark qual è? È quello costituito da un blocco di nuove residenze firmato dallo studio Badia Berger infatti non è un caso la scelta del rivestimento in rame dell'edificio da qui il nome che è Flat Copper che riflette infatti la luce sul quartiere circostante il complesso si suddivide in due volumi che sono due volumi differenti offrendo così una vista del giardino interno che si sviluppa in verticale. Ci fermiamo qualche minuto per andare a vedere il prossimo servizio dove i nostri microfoni parlerà l'architetto John McCaslan dello studio John McCaslan & Partners sulla sua opera la Yuma Moscow a Doha in Qatar. A tra poco.